Zombie. Siamo degli zombie? No, non vogliamo essere riportati in vita per una forma di vita passiva, succube di altrui volontà. Riprendiamoci i nostri spazi, le nostre abitudini, le nostre sicurezze, la nostra gioia di condividere, il nostro desiderio di sentirci liberi. Liberiamo i nostri pensieri, lasciamoli volare alti e sognare. Un sogno che diventi realtà. Amiamo la nostra vita perché adesso siamo riusciti a capire la sua importanza. Ama la tua vita.